Ciao Nini sono qua per premettere una cosa, ho registrato questo video un po' di tempo fa perché secondo me su questo anno una serie del genere serviva Ma mi sono accorto, ora che sto editando il video, che questa serie è già uscita sul canale di un altro youtuber italiano, ovvero Charlie Moon L'ho scritto in un chat privata che mi dispiace per questo diciamo errore, ma me ne sono accorto solamente adesso Comunque ho reputato che sul mio canale questa serie magari sarebbe stata carina, quindi l'ho portata lo stesso Quindi mi scuso anche apertamente con Charlie, prima che voi scrivete nei commenti Ehi copiato Charlie Moon, che schifoso, bastardo No, non l'ho copiato, semplicemente è stato un errore mio Nel video ti po' dirò che non ho visto la serie da nessuna parte perché ovviamente l'ho registrato prima questo video Quindi quando ho registrato il video non sapevo che questa serie l'avesse fatta qualcuno Anzi in realtà probabilmente non l'aveva fatta ancora nessuno su YouTube Italia, capito? Capito? Eh? 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 E adesso niente, dai vi auguro una buona visione, arriviamo a 2000 like per il prossimo episodio di questa serie Buona visione, anche 2.5, via! Ciao a tutti nini, benvenuti in questa nuova video Oggi siamo qua nella nuova serie che ho spoilerato ieri su Instagram Ovvero siamo sulla Heaven Quest, una mappa che io non ho mai visto fare su YouTube Italia Ma perché c'è da poco come mappa Ed è 1.9 Qui dobbiamo settare la difficoltà Questo è per andare avanti, leggiamo un po' Ok, prendi tutti gli oggetti necessari, tutti saranno utili Io li prendo tutti ovviamente E li leggiamo, li leggo e poi vi spiego un po' Ok ragazzi, molto semplice, ve la spiego durante il game Allora, è andato questo Oh, bellissimo, si rompe il vetro Figo, figo Ok, teleporting to the mondo Good luck, grazie anche a te Questo è il portale per il paradiso Infatti ve la spiego molto velocemente Perché il portale per il paradiso Infatti questa mappa è formata da due cose fondamentali Survival, questa parte qua Che è una skyblock praticamente E poi c'è la parte adventure Che è il paradiso Nel paradiso puoi fare varie cose Come traddare, comprare roba nello store Puoi finire le quest che sono varie Puoi andare nell'arena una volta al giorno Perché in questa mappa ci sono notte e giorno E ogni mattina ti danno 10 punti bonus Che sono lì a destra E con i punti ti puoi comprare la roba Sempre se durante la notte però sopravvivi Come forse sopravvivere durante la notte Semplice, devi sopravvivere e basta Se muori dai mostri che ti esponano Muori e basta Ogni quest può sbloccare o item da comprare O semplicemente darti item a fine quest Molto semplice Killando i mob guadagni esperienza Nell'arena guadagna esperienza E per esperienze tenendo anche punti E niente Cosa? Scaviamo, scaviamo, scaviamo Volevo fare una specie di non so nemmeno cosa A livello del portal Ok, una cesta Ah, skip date In pratica così vado direttamente al periodo in cui Spuona il portale Perché il portale spuona solamente A fine del pomeriggio Quando sta tramontando il sole Funziona così questa mappa Ed ovviamente per far spuonare il portale Devo semplicemente aspettare O che il sole arrivi lì alla meridiana Portale attivo ad esempio Andiamo nel portale Intanto mettiamo due cubi con un secondo E entriamo nel portale Ok, questo è il paradiso Ah, questo è il coso delle quest Sì, c'è la leva E si contraddistingue con le leve Cosa devi fare? Devi prendere una worky bench Mettela via e poi tirare la leva Così è il funzionamento delle quest Ora io non ho una worky bench Non ho nemmeno un albero Non ho nemmeno un seed Quindi non so Poi questa è l'arena Che non sembra accesa Quindi forse Dobbiamo completare forse qualche quest Per sbloccare l'arena Non lo so Vediamo un po' Non ci sono Abbastanza materia Ah ok Tipo per certificare Tu certifici gli oggetti E ti da dei punti Con i punti ci compi le robe E così via Vabbè ci sta Ah, questo è dello shop 5 punti per una worky bench E l'abbiamo presa Stick Punto Punto Tutti i punti per gli stick Che tanto ci serviranno Per fare i vari utensili Che se no non si va avanti Perché se no l'è maiala Ma finché non ci sa un piccone Per picconare È dura Dura, dura, dura Magari ce lo daranno Spero Tira la leva Ok, tiriamo la leva Oh, un piccone e una torcia Importantissima secondo me Allora, gravel Sticazzi, sticazzi Ho capito Ok, mangiamo che sto morendo De fame Ricordiamoci Il mangiare per ora è molto limitato Quindi attenzione E niente Che dobbiamo poter fare nient'altro Se non tornare alla base Tipo il cancello Sì Tipo il cancello Vabbè, carina Carina Questo è il paradiso ragazzi Si sta avvicinando la notte Quindi una cosa facciamo Continuiamo A cosare Questo però la lasciamo qui incavata Che tanto non si sa mai Ci lasciamo la roba dentro Facciamo una cosa intelligente E detto da me Insomma Cosa intelligente È una cosa a ganza Vi spiego il perché Nel librettino O non mi ricordo Però l'ho letto Forse nei commenti Della mappa direttamente Ho letto che Praticamente ragazzi I mob sponano Solo se stai lontano Dal punto dove devi stare Realmente A me non ho il work I bench Vabbè li posso ammazzare Col piccone O due danni Cavolo Cioè gli sciotto Praticamente La mano dovrebbe avere zero Quindi fa Il doppio del danno Della mano Io sto sprecando dirt infinita Ragazzi Perché dovete sapere Che la dirt Comunque sia Serve a un botto Perché con la dirt Poi ci fai Sponare sopra gli alberi E cose varie Però per ora Mi serve più che altro Per allontanarmi Dalla zona dove dovrebbero Poi sponare i mob Che i mob non sponano ancora Però dovrebbero sponare Prima o poi Non so dove farli sponare Il problema è che Non devo buttarli sotto Perché il loro drop È importante Quindi Mi serve Mi pare già abbastanza lontano Non so dove devo andare Per far sponare i mob Ma Mi sembra comunque Lontanino Vabbè Prendo un po' di cobblestone E la metto nella chest Che poi mi servirà Come sapete La cobblestone servirà Per fare poi gli utensili Quindi Tre ce li teniamo per quello Ok Qui ci vengono tre spade Un piccone O due piccone Due spade Vabbè li mettiamo qua Insieme a questi Ok sponare uno scheletro Che se vi ricordate Con lo scheletro Ok Ok Non cadere Non cadere Non cadere Non farmi cadere Però Non farmi cadere Che Ecco ho fatto cadere io te Mannaggia la puttana Dove farli sponare in casa Vi ho bello e capito Ok Mi sembra un po' troppo esagerato L'enderman Tiriamo a dritto Che c'è uno scheletro Ok Picchiamo lo scheletro Di brutto E cascavo di sotto Un'altra volta Questo deve cadere di sotto Essenzialmente tanto Cade di sotto Ok L'enderman ragazzi Ho un problemino L'enderman Maiala Magari posso Sono due enderman Però posso spingerli Magari Uno è cascavo di sotto Cadere Ok No è ancora qui Cade di sotto Ok Ho fatto cadere gli enderman Sento cattivo Allora ragazzi Capiamoci Dovete sponare In maniera Consona Uno zombie Ragazzi C'è uno zombie Dovrei killarlo Abbastanza easy Con il piccone Se basta E non cadere di sotto Magari E ce la facciamo anche Non cadere 5 colpi 6 colpi 7 colpi 8 colpi E non mi hanno nemmeno Troppato di rotto in flare Mamma mia Oh Siamo a metà della notte E ancora non è sponato Ne merita minchia In maniera adeguata Perché Continuano a sponare In maniera sbagliata Via Mi sono rotto di coglione Adesso Prendo una spada Almeno appena arrivano Li Sciollalate Vieni qua 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 Buttati sotto Non esplodere Facciamo entrare il giorno Va Come funziona Ah Manda velocemente avanti il tempo Vabbè Posso apprezzarlo Oppure no Vediamo un po' Ah ma dava anche 10 punti Meno male Anche perché io Ho attivato il detto Attivo il portale Ma se non mi dava i 10 punti Per prendere il worky bench Andavo veramente da poche parti Ok mi ci butto Ok funziona Adesso Portale in attivo Minchia È veloce Ah Sapete perché Perché ovviamente Il tempo va velocissimo Quindi se non state attenti A prendere il portale velocemente Credo Che vada con il worky bench Perdete il tempo Per entrarci Il portale si chiude E come è giusto che sia All worky bench Devo subito tornare a casa E farmi la spadina Ok Qui prendo i materiali E mi ci faccio già tutto Adesso deve semplicemente Passare la notte Aspetta Facciamo così Ok quanto ti andrà la spada 5 Ecco Lascio la roba importante qua E di modo che nessuno Me la possa togliere E è notte Per ora Mentre aspetto Che Che niente La notte faccia il suo corso Mi scavo un po' sotto ai piedi Non troppo Perché sennò poi rischiano di spawnarci I mob Se crea tipo delle piccole grotte sotto Quindi aspetterò di avere almeno due torce Per farlo Sto raccontando un po' di coal Perché comunque non si sa mai Magari posso anche distanziare un po' di più il posto Tipo va giù Con un po' di coal A parte è cobblestone Non è coal Magari fosse coal Sponato un creeper All'istante Di tra le mie spalle Cercherò di fightarlo Con più calma possibile Colpo Siamo già a 20 danni Quindi ok 20 danni Vabbè dai Non è così male Non esplodere Madonna Perché Ma sono invisibili Sti creeper Ma cos'è Devo tornare laggiù un'altra volta E aspettare che spawnano i mob ancora Tanto mettiamo due o tre Cubetti di cobblestone Di modo che Nel caso arrivino i mob Io non Possa diciamo Non cadere di sotto Farò un po' di avanti e indietro Per vedere Uno scheletro No ragazzi Il scheletro è importantissimo Il scheletro è importantissimo Non va affatto scappare E non deve nemmeno uccidermi Vediamoci il fatto Che non deve uccidermi No devi Vedi che hai già sbagliato tutto Vedi Vabbè Non me ne frega niente Se mi hai ucciso Non me ne frega nulla Non prenderò i 10 punti di stanotte Dov'è la mia spada? La spada è persa E lo scheletro Mattonna Oh Ma che Ok Sei morto ora Oh Le frecce Non mi ha dato lo scudo Cioè non mi ha dato La spada Ah meno male Sa che devo fare una cosa intelligente Ragazzi A parte mangiare un pochetto Perché sennò la vita Le coproni 2000 mai Ma devo fare una cosa interessante Ovvero Fare tipo un contorno Per ora Perché altrimenti È un problema Che altro perché spesso Mi tocca dire addio ai mob Perché giustamente Stanno al bordo Perché sono intelligenti Perdo poi così Perdo tutti gli item Che possono droppare Almeno così Non cadono Non c'è verso Poi a prova di Di stronzo È questo coso Lo zombie cado da solo È impossibile Che in tutta la notte Non sponi una minchia Cioè Mi pare assurdo Che è un creeper Devo rimuoverlo da lì Perché altrimenti Poi se vado a combattere Contro altri personaggi Mitologici Che non esplodere però Tutto ma non esplodere Che cosa deve venire in qua Non può stare laggiù Non è morto Non è morto È caduto di sotto È caduto di sotto E mi ha fatto cadere Il piccone Ma poi basta Sponare nei punti più Ecco Ok Butto di sotto Questo è di sotto Questo no però Questo non può cadere Questo non può cadere È bloccato È bloccato È bloccato È bloccato È bloccato Ti rendi conto Riusci a cadere lo stesso No vabbè ragazzi Ma è pauroso così Non posso nemmeno Killare i mob Che cadono di sotto Facciamo così adesso Almeno non cadono Sicuramente Così se cadono qui Sono morti Non c'è verso Non riesco a scappare Nemmeno io fra un po' Da qui Ora se scappano loro Sono degli udini Adesso è a prova Di stronzo proprio Perché non c'è verso Di non morire No scusa di morire Cioè No ancora un po' diverso C'è per sfortuna Anche un ragno Ok ragno potrebbe essere Devastante per la mia Economia e commercio Era 1.8 E questa mappa La mangiavo ragazzi La mangiavo Ah È finita la notte Simpa Simpatico Ok posso solamente È caduto No ragazzi Non c'era È caduto Lo zombie Lo zombie Mi ha 3 rotte in flash Mi devi dare Non so come Ma dammi 3 rotte in flash 3 0 Ma che è 0 Cioè Cosa vuol dire 0 rotte in flash Mi prendi per il culo Dillo Sì ti prendo per il culo Anche la prima notte È andata Quindi noi ci vediamo Direttamente Nel prossimo episodio Ragazzi Con il portale aperto Quindi torneremo di là A vedere se possiamo Comprare qualcosina Di utile Ma non credo Ancora possiamo Prendere niente Magari possiamo dare indietro Tipo quelle string Utili che magari Sono apparentemente Utili ma Sarificando Rescidando dei punti E aspetteremo Nuovamente la notte Dove poi Insomma Nel prossimo episodio Sbloccheremo varie cose Perché ovviamente Questo è il primo episodio Quindi è molto di rodaggio Cioè vi faccio un po' Vedere cos'è la map E poi dal prossimo episodio Si parte in pompa magna Perché ogni volta Che voi sapete Vi faccio una nuova serie Cerco di mostrarla prima E poi dopo inizio a giocarla Inizio a lasciare un bel mi piace Per questa serie Arriviamo come ho detto Forse nell'intro Non so se l'ho detto A 2000 like Per la serie Commentate Iscrivetevi Passate dai miei social Compreso Badu Che è qua sotto Nella descrizione Noi ci vediamo appunto Al prossimo video Per questo video è tutto Ciao Nini Ciao Nini CiaoYouMrNini